ehi che ci chi chi è chi è sta chi è buongiorno e quindi buongiorno ehi 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 non lo dici a me non vai chi sono quelli la riso no lo ce l'ho ce l'ho ce l'ho come ti chiami tu 026517 ma non è ma non è bianca Che? Quella è un po' bianca Cosa? Hai dovuto essere in guadagnia Buongiorno 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 State buongiorno Ma dimmi Matta Eh? Stai sicuri che devi Ehi sono proprio grande ma camicia Chi sono questi qua? Non vi facete male Una volta Ecco Chi è? Chi ha parlato? Tu? Buongiorno Buongiorno Ah Chi è? Che cosa? Va bene